Lab e LabSRL operano il settore dei servizi pubblici locali, public utilities, con attività di progettazione, consulenza, formazione ed informazione. Grazie alla pluriannale esperienza della propria compagine sociale, possiede una forte competenza nel settore dei rifiuti, dei servizi idrici e dei servizi ambientali ed energetici. I software di RifiutiLab offrono uno strumento di progettazione potente ed agile nel campo delle raccolte rifiuti, dello spazzamento e delle simulazioni tariffarie. Il dimensionamento di questi servizi avviene attraverso un'interfaccia web che guida il progettista nell'impostazione del progetto, nella scelta dei valori guida e nella valutazione delle soluzioni alternative. L'utente può accedere ad un profilo personalizzato da qualunque PC connesso in rete, dove avrà sempre a disposizione gli scenari già memorizzati pronti per essere modificati. I software di RifiutiLab sono quindi uno strumento innovativo al servizio di professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni. I software di RifiutiLab.